Oggetti chiari e nitidi ripiombano nel vago, disimparare è l'arte più severa e molto più esigente del suo contrario, abituarsi al vuoto dove era una figura, situare il silenzio dove era compagnia, dove era riso, sillabare il gran libro dell'oblio e incamminarsi barcollando verso l'eternità, un'infanzia più debole e smarrita.